Ragazzi, benvenuti nella mia cucina, oggi iniziamo la registrazione delle video ricette in collaborazione con vitamin C. Oggi andremo a fare dei pancake vegani utilizzando la farina d'avena aromatizzata al cioccolato vitamin company, questa qui, e poi farò vedere cosa si serve. Come primo ingrediente 50 g di farina d'avena, poi prendiamo 20 g di farina di ceci, un paio di cucchiai di yogurt di soia, questo è quello bianco naturale, poi circa 50 ml di latte d'avena, lievito vegano, 3 g di rollitina e un po' di acido di mele. Iniziamo a miscelare i nostri ingredienti, mettiamo i secchi, aggiungiamo piano piano il latte, adesso aggiungiamo il yogurt, l'importante è togliere bene tutti i grumi, come penultimo passaggio aggiungiamo il lievito, è importante quando scegliere i lieviti per le preparazioni vegan che siano certificati prodotti per vegani perché alcuni hanno degli stabilizzanti che sono di origine animale. Io aggiungo sempre idrolitina, un pochino qualche grammo e un po' di acido di mele che rende l'impasto un po' più ciccione. Mescolate per bene, fate togliere bene tutta la schiuma che fa la reazione e andiamo a cucinare. Iniziate a scaldare la padella a fuoco medio, non troppo caldo e mettete giusto un filo d'olio che aiuta a non attaccare i panetti. Iniziamo a cucinarli. Vediamo se hanno una bella forma sterica, altrimenti non vengono bene a ruoto. Quando ho cominciato a vedere queste bollicine sulla superficie vuol dire che possiamo girarli. Facciamo una delicatezza, come me, e aspettiamo 30 secondi che si finiscono di cucinare. Vedete come sono? Adesso ci ripetiamo a farcicoli. Utiliziamo la parmellata al 100% di mirtillo e alcuni mirtilli di umore che sono lì, l'acido pollico e angiosinano. A volte ci ripetiamo a farcicoli. Spressi da un'opera libera. A presto! Grazie a tutti. Ed ecco a voi pronta la vostra colazione sana, buona e vegana, pronta anche per fare delle bellissime foto. Quindi al prossimo video ragazzi, ciao a tutti. Grazie.